E buongiorno a tutti! Questa mattina si parte. Tra poco passano a prendermi i miei amici Tonino e Concetta, i compagni di viaggio di tanti viaggi in giro per l'Italia, per andare oltre il mare. Quindi dalla Calabria sbarchiamo in Sicilia, diretti verso Tortorici, in provincia di Messina, dove oggi pomeriggio, dalle 16 in poi, vivremo questo pomeriggio di spiritualità mariana, perché il parroco Don Simone ha fatto una settimana dedicata alla Madonna, questa statua bellissima che è stata portata in chiesa, e io sarò lì. Quindi nella chiesa Santa Maria Assunta, so che diversi dalle vicinanze vi siete organizzati per venire. A me questo non fa altro che rendermi felice. Tutti insieme poi alle 21 ci collegheremo sempre da quella chiesa per il Santo Rosario, nel quinto giorno della novena dei defunti, il Santo Rosario a Maria. Però, ecco, voi accompagnatemi con la vostra preghiera. Io, mentre camminiamo con la macchina, pregherò il Rosario e comincerò a pregare per tutti voi, affiderò a tutti voi al cuore di Maria, e quindi è come se viaggiamo insieme. Bene, voglio dirvi che siamo preziosi agli occhi del Signore e agli occhi della Madonna. Che significa essere prezioso? Noi pensiamo molte volte di essere ferrivecchi, che non serviamo a niente, che non valiamo niente, e che cosa possiamo fare? Niente. Eppure, anche il ferrovecchio serve. Quando ero più piccolo, veniva un signore con un'ape, un motocarro, e chiedeva lì a noi, ai vicini, a mio padre, se avevamo ferrovecchio. Sì, perché poi lo portava, se lo vendeva, e questo ferrovecchio veniva fatto fondere e creava altre cose. Quindi anche quando sembra che siamo ferrivecchi, allora valiamo tanto. In questi giorni io sono stato un ferrovecchio, perché davvero, voi mi vedete sorridente, ma ho avuto una schiena a pezzi, sarà la postura, sarà che non mi fermo mai, e va bene così. Ma il signore di questo ferrovecchio lo ha preso e ne ha fatto un sacerdote nuovo. Perché proprio in questi giorni, quando ho visto migliaia di persone collegarsi ancora di più al rosario, abbiamo risposto fino a mille mail in un giorno. I miei ragazzi, che fanno tutto gratuitamente e con spirito di fede, hanno risposto fino a mezzanotte alle mail, e ancora ce ne restano tantissime da rispondere. Ecco cosa fa il Signore con un ferrovecchio. Quindi, per cortesia, cercate di rialzarvi ogni qualvolta vi viene la tentazione di dire sono un ferrovecchio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Quindi, Rosario alle 21, in diretta sul canale YouTube Don Francesco Cristofalo. E poi, per tutti quelli che potranno venire l'1 novembre alle 16.30 nella mia chiesetta qui a Simeri per un pomeriggio di spiritualità. Bellissimo. Sarà molto bello, anche perché festeggio 13 anni che sono a Simeri. Accompagnatemi.